di quella che è perché non possiamo riusare un tema di ricostruire il partito fatto di sezioni di circoli aperti tutti i giorni pensando che ci si divide nei congressi ma l'attimo dopo siamo tutti nello stesso partito noi abbiamo fatto un percorso che sicuramente nasce da qualche anno risolvendo e sistemare per quello che fatevamo dare una mano a risistemare la zona di usare dei temi in maniera demagogica altra cosa più complessa è ragionare contro gli struttari quasi diciamo a sottolineare un po' come se ci sia la società di più di una società